Musica Apriamo la pagina dedicata a Ferragosto, bar e locali aperti in centro città a Trento ma solo nella zona di piazza Duomo. Gli esercenti aperti chiedono dunque maggiore collaborazione da parte dei colleghi per trasformare Trento in una vera città turistica e chiedono negozi aperti almeno una domenica al mese. Vediamo. Aumentano gli esercizi pubblici che non vanno in vacanza nel giorno di Ferragosto ma solo in piazza Duomo e in via Belenzania a Trento. Spostandosi pochi o più in là è tutto chiuso, tengono aperti i locali che si affacciano sul Nettuno che sono affollati ma tutto attorno è deserto. Questa è piazza Duomo alle 11, brullica di turisti con zaino in spalle e consumatori seduti ai tavolini del bar, attorno il vuoto. Solo il bar della stazione delle Corriere è aperto, alcuni kebab e qualche ristorante. Gli esercenti aperti chiedono quindi maggiore collaborazione da parte dei colleghi e anche dai negozianti per far sì che Trento diventi effettivamente una città turistica. Mi sembra giusto dare un buon servizio alla città di Trento visto che siamo in una delle piazze più belle d'Italia, prima cosa. Seconda cosa, vista anche la crisi non mi pare proprio il caso di chiudere. Io dico la piazza Duomo e piazza Duomo e se non diamo servizio noi qui in piazza chi deve darlo? Cosa facciamo? Presentiamo una città bella e chiusa? No. Io avrei aperto tutto oggi, anche altri bar non sono in piazza Duomo. Anche perché piazza Duomo è aperta, il resto sembra un po' chiuso. Come sempre, come sempre vogliamo parlare di città turistica e invece non lo è, assolutamente. Qui bisogna cambiare completamente le abitudini ma soprattutto è la politica che deve cambiare e deve insistere un pochino anche sull'apertura dei negozi almeno una volta al mese la domenica. Oggi giornata di Ferragosto, bar aperto e bar affollato. Affollato anche perché diciamo che quello che si muove in città si muove su piazza Duomo. Dunque noi abbiamo una ragione per stare aperti perché comunque la piazza vive anche nei giorni di festa o nei giorni di gran calura. Capisco i miei colleghi fuori da piazza Duomo che non aprono perché effettivamente non c'è niente fuori da piazza Duomo. E voi vi aspettate anche che aprano i negozi qualche domenica all'anno? Per noi sarebbe importante. L'apertura dei negozi è un tema. Io lascerei libera iniziativa per animare la città. Abbiamo una valenza turistica, chiamiamola così, che viene sempre meno incentivata.